Allora, io credo che questa maggioranza non si sia resa conto di quello che ha fatto, approvando questo regolamento che praticamente obbliga tutti gli esercenti, i commercianti del centro storico a modernarsi con delle strutture nuove, quando invece il nostro centro è bello perché è caratteristico, quindi ognuno ha il proprio tavolino, la propria sede, la propria tenda. Con questo regolamento di fatto, oltre ad essere succubi dei tecnici e quindi della sovrintendenza, andiamo addirittura a dire quali tavolini e quali sedie dovranno mettere, addirittura con un regolamento blindato questa maggioranza va a svilire tutto il centro storico e a impegnare anche economicamente tutti gli esercenti e i commercianti. Quindi noi chiediamo immediatamente il ritiro di questa delibera, di questo regolamento con le modifiche necessarie. A dire la verità abbiamo provato a fare nove emendamenti a questa delibera perché oltre a vincolarli, a comprare questi tavolini, a dire la verità dovrebbero chiedere loro un parere alla sovrintendenza che potrebbe bocciare eventuali tavolini o sedie diverse, quindi con un iter molto più lungo e anche complesso. Abbiamo provato a emendare questo regolamento perché ci sono anche delle norme del cosice della strada che prima non c'erano, quindi comunque sia il regolamento precedente aveva delle maglie molto più larghe. Ecco, con questo regolamento rischiamo di far chiudere molte attività del centro storico perché nel centro storico i veicoli possono girare liberamente, quindi ci sono anche delle regole che in teoria dovrebbero rispettare. Ecco, noi abbiamo provato a cassare queste norme perché di fatto non devono essere all'interno di un regolamento che deve dare delle linee di indirizzo, dei principi generali. Ecco, questa maggioranza sorda e anche incompetente mi viene da dire ha blindato questo regolamento perché noi chiediamo immediatamente di revocarlo, altrimenti mettiamo a dura prova tutti gli esercizi commerciali del nostro centro storico. Ecco, per questo noi chiederemo anche un incontro con i commercianti come consiglieri di opposizione perché vogliamo spiegargli quali sono le motivazioni del nostro diniego, che non è solo politico ma è anche pratico, cioè va anche incontro alle loro esigenze. Vogliamo incontrarli per spiegarli perché ci aiutino a far abrogare questo regolamento e a magari ripresentarne uno condiviso con tutti i commercianti che possa far crescere la nostra città e i nostri commercianti perché in questo momento viene a mancare completamente la libertà di impresa con questo regolamento, cioè viene negata la libertà di impresa per cui tutti devono essere uguali. Se uno fa gli aperitivi alla sera e un altro fa le colazioni alla mattina devono avere gli stessi arredi, cosa che oggettivamente è impossibile.